Noi abbiamo scelto di entrare da una porta apparentemente di servizio nella questione che è quella dei grandi romanzi dell'Ottocento, dei grandi romanzi che hanno fatto il risorgimento. In che senso? Sono romanzi molto importanti per due motivi. Uno perché hanno a loro modo raccontato il risorgimento ma senza raccontarlo direttamente, senza essere almeno la gran parte di questi romanzi direttamente come sono stati poi nel Novecento, i romanzi sulla resistenza o i romanzi sull'Italia repubblicana. Non sono romanzi che parlano direttamente del risorgimento, tranne uno o due, ma lo hanno raccontato tra le righe. E raccontandolo tra le righe, cioè hanno avuto successo per gli argomenti di cui trattavano, e tra le righe depositavano alcuni racconti del risorgimento e soprattutto alcune critiche al risorgimento stesso che non hanno trovato invece riscontro nei libri di storia. Praticamente quello che abbiamo scoperto rileggendo questi romanzi del risorgimento è che il punto di vista dei grandi narratori, forse è normale che sia così, però per esempio non è stato allo stesso modo nel Novecento, il punto di vista dei narratori, dicevo, è un punto di vista critico, a volte aspro nei confronti del risorgimento stesso e che non si nasconde i problemi che ha avuto, hanno pensato sul risorgimento, che sono stati addirittura creati dal risorgimento. Praticamente i narratori, gli scrittori, sono stati più coraggiosi degli storici. Quello che il dibattito storiografico comincia ad affrontare solo adesso, in tempi recenti, loro lo affrontarono in tempi reali, prendendo il toro per le corna e dicendo le cose che non andavano. Vi faccio un esempio e partiamo dal primo. L'arco scelto di questi narratori va dal primo romanzo che è stato pubblicato fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che è le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, fino a quelli pubblicati poi alla fine dell'Ottocento. Dicevo, siamo alla fine del Settecento, quindi siamo 50 anni, 60 anni prima del compimento del risorgimento, a quello che da tutti è visto come l'inizio del risorgimento stesso che è collocato con la discesa di Napoleone in Italia nel 1796. Breve cenno storico, nel 1796 la rivoluzione francese, la sua fase robesperiana è chiusa da due anni. A Parigi regna il direttorio, è un momento di morbidezza post-rivoluzionaria, i costumi si cominciano a rilassare, ma il ministro del Croix, che è un ministro che idea la spedizione in Italia, che manda questo giovane ufficiale, Napoleone Bonaparte, un giovane ufficiale corso, a compiere questa impresa, è ancora molto imbevuto di idee rivoluzionari. È un ammiratore di Filippo Bonarroti, che è uno degli ultimi rivoluzionari rimasti dopo la rivoluzione, li faranno tutti fuori proprio nella primavera di quel 1796, quando Bonarroti e Baboeuf faranno la cosiddetta congiura degli uguali, ma in quel momento convivono un'anima più rilassata, l'anima del direttorio, l'anima che fa capo a Barras, al capo del direttorio, e ministri come questo del Croix, che manda Napoleone in Italia, raccomandandogli le linee di guida, le linee guida di questo Bonarroti, di questo rivoluzionario. Quindi Napoleone si presenta in Piemonte, comincia le sue battaglie, ed è il Napoleone che conosceremo dopo, sbaraglia i nemici, in questo caso di Savoia, li sbaraglia un colpo dietro l'altro, e tutti i giovani italiani in quel momento si entusiasmano. Gli entusiasmi si entusiasmano perché pensano che è la rivoluzione, quello che avevano visto all'inizio degli anni 90, del Settecento, a cadere in Francia, pensano che adesso stia arrivando sulla punta delle baionette francesi in Italia. Poi però Napoleone firma con i Savoia uno pseudoarmistizio di Cherasco e lo firma, fa una pace con i Savoia, è uno pseudoarmistizio nel senso che l'impresa napoleonica continua come prima, però spegne i sogni rivoluzionari, quantomeno dei giovani piemontesi, che avevano già fatto delle repubbliche giacobine, la più celebra era quella di Alba. Insomma, cominciano i giovani rivoluzionari italiani ad avere qualche dubbio, però Napoleone travolge tutto, entra in Lombardia, entra in Veneto, è il momento, tutti pensano che libererà l'Italia, farà lui una repubblica napoleonica, certo, ma in Italia, e tutti corrono, almeno parlo di tutti, ma non sono grandi quantità, sono le elite dei giovani più alfabetizzati, tutti corrono a ruolarsi nelle file dell'esercito di Napoleone, e fra queste c'è uno scrittore, Ugo Foscolo, che è ancorché ventenne, giovanissimo, già aveva scritto delle commedie che non avevano argomento politico, anzi delle tragedie, delle opere teatrali, ed era già famosissimo, era qualcosa per l'epoca, all'epoca scrivere, scrivere per il teatro, era qualcosa che rendeva, non so come fare un esempio, come Saviano oggi, ma cento volte di più, amato, poi giovane, queste cose erano molto appassionanti, era un ragazzo strano, era nato a Zacinto, in un'isola greca, e questo Foscolo, appunto, come altri, si arruola con l'armata napoleonica, ma non fa tempo a arruolarsi e a mettere mano a quel romanzo che vi ho citato all'inizio, l'ultimo, e il letto di Jacopo Ortis, che, sorpresa, Napoleone firma il Trattato di Campoformi, il Trattato di Campoformi, ve lo dico in breve, è un trattato con cui Napoleone, che già pensava di trasferirsi in Egitto, firma la pace con l'Austria e gli regala all'Austria, Venezia, che, invece di includerla nella nascente Repubblica Italiana, la regala all'Austria, Venezia, fino a quel momento, era una Repubblica autonoma. Questo shock, questo colpo di questo Trattato di Campoformio diventa il centro del libro Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, sul modello di tanti libri epistolari che si facevano in quel momento, nella seconda metà del Settecento, il più celebre I dolori del giovane Werther di Goethe, sul modello, è un romanzo fatto di lettere dove al centro c'è un grande amore difficile, complicato, che porta poi l'autore Werther in Germania, Jacopo Ortis in Italia, al suicidio. Quindi è un romanzo per giovinetti, per ufficialetti, è un romanzo appassionante, tra l'altro è scritto in modo formidabile, è destinato a grande successo, ma il trattato di Campoformio diventa il centro occulto di questo romanzo e quasi, molte sono le pagine, molte sono le lettere dedicate alla disillusione per il trattato di Campoformio e sembra quasi diventare il trattato di Campoformio stesso il centro del romanzo, come se Jacopo Ortis e in parte così si uccida per la delusione politica successiva a questo cedimento di Napolone e contiene anche dell'altro questo libro, perché voi direte la delusione per un trattato, certo un militare fa quello che gli trova più conveniente fare, ma è proprio quello il punto su cui si fissa Foscolo. Foscolo riflette e pensa, ma è proprio giusto che la storia d'Italia noi la affidiamo da fare a Napoleone, cioè un esercito francese, a uno che viene da fuori, abbiamo aspettato 700 anni, siamo l'ultimo paese d'Europa che si fa nazione, che si fa stato, ma come mai noi lo dobbiamo fare e non lo possiamo fare noi con un empito nazionale, con le masse, coinvolgendo, se lo faremo con l'aiuto degli stranieri, se lo faremo con l'aiuto degli stranieri, forse non sarà quello che avremo desiderato.